Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Interdipendenza. Partiamo subito con la notizia più calda della giornata. Il possibile scambio tra Inter e Juventus di Mauro Riccardi con il Pipita Higuain. Uno scambio pressoché impossibile, data l'età dei due giocatori, Mauro Riccardi molto giovane, e il prezzo soprattutto del capitale onero-azzurro. La sua clausola recissoria è valida soltanto fuori dall'Italia. Difficile se non impossibile uno scambio, soprattutto per l'auto-ingaggio del Pipita. L'Inter dovrebbe farsene carico, dunque una trattativa piuttosto impossibile. Da segnalare che Higuain piace molto al Chelsea, dunque la Juventus sta cercando di cambiare attaccante e probabilmente la destinazione più probabile per il Pipita sarà proprio il Chelsea in Inghilterra. Difficile dunque lo scambio con Mauro Riccardi. Passiamo al capitolo Gioomario che ieri sera è andato in gol con una rete meravigliosa contro l'Algeria. Stop e tiro al volo sotto il 7. Due sono le squadre di Premier interessate al calciatore portoghese, il West Ham di Pellegrini e il Manchester United, il suo connazionale Murigno. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni per non creare una minusvalenza a bilancio. Quasi 40 milioni di ricavi in più dagli sponsor soltanto in Cina per l'Inter che continua a crescere, soprattutto in Asia. 10,5 milioni di euro nel 2018 con le società cinesi Full Share, attiva nei settori dei servizi per il turismo e per l'educazione dell'infanzia, Donkey Mother, agenzia di viaggio online, e iMedia, agenzia cinese di marketing sportivo, per la stagione attuale dal valore di 27,2 milioni di euro, dunque un totale di 40 milioni di euro in più per l'Inter. Per questa edizione è tutto, io vi saluto e vi auguro una buona serata, a domani.